A pazziella proprio oggi! Quindi, ricapitolando, oggi siamo arrivati a Sperlong, siamo saliti su, abbiamo fatto la rosemary, siamo scesi dal tratto pietroso di Schettino e adesso piano piano ce ne torniamo a casa. Occhio Silvo! È una guerra oggi! Come on, let's go! Sinistra ancora qui! Grandissimi! All'ultimo! Un pezzettino l'ho fatto, dai! Un pezzetto! Ci vediamo alla prossima! Ciao ragazzi! Hola!